Onde, lunghe distese di sabbia, vento sulla faccia, sacrifici, emozioni improvvise. La magia del Sircasting si esprime in queste immagini perché nel Sircasting tutto deve essere perfetto per poter vincere una sfida con il mare. L'Italia è patria di grandi esperti di questa tecnica praticata da migliaia di appassionati e che ha una lunga storia prestigiosa fatta di tecnica sopraffina, di idee, di rivoluzioni che hanno contagiato tutto il resto del mondo. Esiste chiaramente un Italian Style nel pescare dalla spiaggia e questo programma ne vuole rendere merito. Sircasting Academy su Italian Fishing TV Grazie a tutti.